Buongiorno, seduta della terza commissione del consiglio della quinta circoscrizione eh del primo settembre duemilaventuno alle ore nove e tre si procede con l'appello altadonna assente lucido assente stabile presente due assenti un presente allora se non c'è il numero legale arriviamo ad un'ora va bene va bene nove e zero cioè dalle dieci zero tre sono quattro e quattro va bene ok grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti